Allora, negli anni 30 il mercato immobiliare subì un crollo a livello nazionale, grossomodo dell'80%. Insomma, metà del debito protecario mandò in default. Insomma, c'erano moltissimi specifici indicatori della crisi, voglio dire, estremamente riconoscibili, tipo ad esempio uno dei segni caratteristici delle bolle è il rapido aumento della complessità e dei tassi di frode. Tu lo sapevi che stanno aumentando? Verde e bianco, lottano in branco! Verde e bianco, lottano in branco! Verde e bianco! Mi sono sempre sentito più a mio agio da solo. Presumo che sia per via del mio occhio di vetro. L'ho perso da piccolo per una malattia. mi separa dalla gente. E lo sapevi che stanno aumentando i più alti tassi di frode dagli anni 30? Ehi, ehi, è tutto ok, è tutto ok? No, non lo sapevo. Sì, 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 insomma... Nel 1933, il quarto anno della grande depressione. Si lava e si rimettava posto. Stavi giocando così bene, figliolo. Ho sentito che anche il coccio lo diceva. Mi riesci a mangiare a casa? Ma le interazioni sociali sono imbarazzanti sia per me che per gli altri. Anche quando cerco di fare un complimento a qualcuno, mi viene fuori male. Hai un bel taglio di capelli? Te lo sei fatto da solo? Cosa? No, io... Scusami, stavo... ...darlo di continuo. Mia moglie mi ha detto che devo condividere di più. Questo mi sembra sano. Sì. Ciao. Allora avrò l'impiego. Sono certo di poter aiutare il suo fondo. Sì. Sì, certo. Vai. Tu sei... David. David, bene. Ok. Allora andrò a cercarmi una scrivania. C'è qualcosa su cui vuole che lavori per cominciare. Sì. Può dirmelo dopo, posso parlare. No, 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 no. Tu, 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 no, 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 no. Non è trovato strano che quando è scoppiata la bolla tecnologica nel 2001 il mercato immobiliare di San José, considerata la capitale tecnologica del mondo, si è avanzato? Non è strano? Ah, no. No, 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 ma è l'immobiliare. L'immobiliare è sempre stabile, basso rischio, è solido. L'idea è quella, sì. Allora voglio che mi porti le 20 obbligazioni ipotecarie che vendono di più Vuole sapere quali sono le 20 obbligazioni ipotecarie più vendute? No, 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 voglio sapere quali mutui ci sono dentro ognuna Aspetti, aspetti, quei mutui non sono composti da... Quelle obbligazioni non sono composte da migliaia e migliaia di mutui Sì, ok Subito, dottor Barry Sì, ok